In questo numero del Salus Tg. Censis, meno carne e pesce a tavola, si allarga il gap sociale. Vaccini, antinfluenza e visite, medici in campo per migliaia di sfollati dopo il terremoto. Ricciardi a Pignatone, la magistratura si ha al fianco dei medici contro l'antiscienza. Meno carne ma anche poco pesce, frutta e verdura, soprattutto per le famiglie meno abbienti. L'Italia a tavola torna alle divisioni economiche del passato, secondo la ricerca del Censis presentata a Roma. Il crollo dei consumi minaccia anche la dieta mediterranea. Nel periodo 2007-2015 la spesa alimentare delle famiglie italiane è infatti diminuita in media del 12,2% in termini reali, ma nelle famiglie operaie è crollata del 19,4% e in quelle con a capo un disoccupato del 28,9%. E' il cosiddetto food social gap, caratterizzato da un forte divario nella spesa per il cibo tra i più ricchi e i meno abbienti. Le macerie non fermeranno la vaccinazione antinfluenza e le visite mediche. I medici di famiglia delle Marche si stanno mobilitando in aiuto delle migliaia di persone costrette a lasciare le loro case. Dopo la forte scossa di domenica, la situazione nei paesini marchigiani colpiti dal sisma è diventata ancora più grave, sottolinea Massimo Maggi, segretario regionale della FIMG Marche. E' importante avere anche la magistratura al fianco dei medici e degli scienziati per contrastare chi, per diversi e spesso turpi motivi, abusa della credulità popolare, esponendola a rischi gravissimi per sé e per le persone care. Lo sottolinea Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nella lettera aperta inviata al procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone. Grazie a tutti.